Musica Sabato 9 aprile, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Vedremo le notizie dai quotidiani nazionali purtroppo con l'ennesima strage che si conta in Ucraina. L'attacco ai coloro, agli ucraini che stavano fuggendo e che erano radunati in una stazione. 50 di loro sono morti sotto i bombardamenti russi e poi la visita della Wonderland e quindi l'Europa che va in Ucraina a vedere la strage di Buccia. Chiaramente ci sono le notizie anche che riguardano le ripercussioni di questa guerra. Da un lato l'allarme è lanciato sul fronte degli alimenti. La guerra ha fatto salire in maniera vertiginosa il prezzo per esempio del grano perché l'Ucraina da sempre è uno dei granai d'Europa. E poi parleremo anche chiaramente di risorse energetiche. Dalle pagine regionali una rapina, anzi due in realtà, che sono state fatte in due cittadine diverse dell'Umbria. Una ad un supermercato, l'altra ad un negozio con addirittura la corrente staccata quasi ad un intero quartiere per poter entrare indisturbati in questa attività commerciale. Ma non solo, chiaramente vedremo anche le altre notizie che arrivano dai singoli territori, dall'Alto Tevere con i lavoratori del tabacco che sono nuovamente scesi in strada per protestare. E allora, andiamo nel dettaglio a vedere le pagine nazionali partendo dal messaggero e l'apertura è dedicata proprio all'ennesimo orrore ucraino. Strage alla stazione, siamo a Kramatorsk, bombe sui civili in fuga dagli orrori. Sono almeno 50 le vittime e su uno dei missili che è arrivato alla stazione, che ha colpito questi civili. C'era la scritta per i bambini, tutta chiaramente da interpretare, ma le reazioni, voi capite, sono state davvero importanti. Intanto vedremo anche la Presidente della Commissione Europea, Wonderlion, stata ieri in Ucraina, esattamente a Buccia, il villaggio degli orrori, il villaggio in realtà è la cittadina degli orrori, per raccontare e vedere di prima persona che cosa sta accadendo. Intanto a casa nostra il Presidente di Confindustria Bonomi, favorevole alle sanzioni nei confronti della Russia, ora però occupiamoci anche delle nostre imprese laggiù. Si parla anche di Covid perché c'è il sì alla quarta dose per gli over 80, mentre la variante XE arriva in Italia. È la variante che nasce dalla combinazione di Omicron 2 e Omicron 1, è stata certificata nel veneziano. Dalle pagine regionali, come vi preannunciavo, Perugia staccano la luce al quartiere per fare il colpo in un negozio. Il dorso nazionale della nazione, chiaramente anche qui la fotonotizia ci porta in Ucraina, la Presidente della Commissione UE, Wonderlion, nell'orrore di Buccia, la vedete con il giubbotto antiproiettile mentre visita le fosse comuni. E poi c'è il reportage del giornalista della nazione, ho visto l'inferno di fuoco sui profughi. Il reportage del giornalista Garzillo alla stazione di Kramatorsk, cadaveri ovunque una bimba terrorizzata, saluta la madre, moribonda. E poi dalle pagine regionali, invece, da Perugia, la mamma di Blind, quel ragazzo che si è particolarmente messo in evidenza in una delle scorse edizioni di X Factor, che dice deve aiutarci. Perugia, persona contromano sulla E45, era ubriaco e poi ancora la vertenza, potremmo dire così, Covid. Rientro dei Novax negli asili nido, ovvero degli educatori Novax. C'è il rischio caos, se questo non avverrà al più presto. Andiamo nel dettaglio, le pagine nazionali. Questa è la nazione, il racconto del giornalista Salvatore Garzillo. In quella stazione ho visto l'orrore, brandelli di vita e di cadaveri. Siamo esattamente a Kramatorsk, la stazione dove i missili di Mosca sono piovuti su donne e su bambini che stavano cercando di fuggire. Sappiamo che l'Ucraina sta costruendo dei condotti, diciamo così, di treni che portano via i civili, proprio per la paura dei bombardamenti. Queste 50 persone che sono morte erano alcune delle centinaia di civili che stanno lasciando l'Ucraina. Purtroppo per loro non hanno fatto in tempo e vedete, insomma, le immagini parlano chiaramente di che cosa è accaduto. E chiaramente sempre c'è lo sdegno, ma lo sdegno non basta davvero, dell'Europa, dell'Occidente, nei confronti di quello che sta accadendo in Ucraina. Ieri la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la vedete in questa foto, ha fatto visita alle fosse comuni di Buccia e ha detto che l'umanità è andata in frantumi. Intanto dall'Inghilterra Boris Johnson sulle stragi sono attacchi di una brutalità inconcepibile. I crimini di Mosca non saranno impuniti. Ci sono poi i contraccolpi della guerra, certamente il principale sono le vittime e su questo non c'è dubbio, ma poi c'è tutta un'escalation di situazioni che va tenuta in considerazione. La guerra sta affamando il pianeta, in un mese è volato il costo del cibo. L'allarme viene dato dalla FAO e quindi l'ente è assolutamente autorevole. I prezzi alimentari sono cresciuti negli ultimi tempi del 12,7%. L'impatto del conflitto rischia di essere devastante. Vediamo solo alcuni dati che in qualche modo ci possono aiutare a capire che cosa succede. I prezzi mondiali del grano sono aumentati del 19,7% durante gli ultimi 30 giorni. Quelli del mais hanno registrato un aumento del 19,1% su base mensile, raggiungendo un livello record insieme a quelli dell'orzo e del sorgo. Ricordiamo che Russia ed Ucraina sono proprio tra i principali produttori di grano. A preoccupare ovviamente non sono solamente i prezzi, ma c'è anche la questione climatica. Dice in particolare Col di Retti e quindi qui veniamo a casa nostra che se non si trovano delle soluzioni utili per arginare per esempio la siccità e quindi riportare alcuni territori italiani ad essere coltivabili, il rischio è evidente e l'Italia non sarà più autosufficiente sull'alimentazione. Già non è autosufficiente per esempio nella produzione di grano. Consumiamo molto più grano di quello che poi effettivamente produciamo in casa. Siamo costretti ad importare, importiamo anche dall'est europeo e questo è il motivo per cui il prezzo sale in maniera importante. Andiamo alle pagine dei quotidiani regionali. Questo è il Corriere dell'Umbria. Medicina ed ospedale da campo agli ucraini, dalla regione, l'AUC e dalla Vim Farmaci Oncologici per il valore di un milione. Messa a disposizione degli ucraini anche la struttura anti-covid comprata nel 2020. La fotonotizia ci porta a parlare di vini e liquori. Così ho riscoperto l'Orvietan, l'antidoto del Re Sole. Parla Bernardini che svela il lungo lavoro di ricerca che ha permesso di ricreare l'amaro del 1600, ovvero utilizzato dal Re Sole. E poi andiamo a Terni. Ast, il vertice al Ministero, fissato dopo Pasqua. Arvedi ha voluto essere presente con i dipendenti delle acciaierie alla messa celebrata dal Vescovo. A Gubbio il prefetto dà il Via Libera ai Ceri per il prossimo 15 maggio. A Perugia la mamma del rapper Blind porta il figlio in tribunale. A Marciano dopo i furti i cittadini chiedono le telecamere. E poi il Festival del Giornalismo, ospiti Zero Calcare e Mastrandrea. Questo era il Corriere dell'Umbria. Andiamo alla Nazione, dorso regionale. Rientro dei Novax e caos nei nidi. 90 strutture private Umbre lanciano l'allarme. I educatori Novax non possono stare con i bambini e noi non abbiamo mezzi per sostituirli. Se non sarà consentito il rientro il caos è inevitabile. A Spoleto, e quindi lo leggeremo nelle pagine locali, un frontale nella galleria che va verso Norcia. Una donna è gravissima e poi sulla E45 un ubriaco contromano è stato bloccato dagli agenti. Poteva davvero essere una strage. La fotonotizia è dedicata al cantante Blind, quindi siamo a Ponte San Giovanni. La mamma dia gli alimenti a me e al fratello. La mamma porta il rapper Perugino in tribunale. Ora ha i mezzi economici per aiutarci, dicono ci aiuti. Andiamo a Santa Maria degli Angeli. Picchiato in treno e poi derubato, è stato individuato uno dei rapinatori. Ancora sversati nel Tevere, rifiuti pericolosi e cancerogeni, è stata sequestrata un'azienda. A Terni il Vescovo celebra la messa presso le acciaglierie. E poi la fotonotizia, anche qui è ufficiale, il 15 maggio tornerà alla Festa dei Ceri. E poi nascono in Umbria le comunità energetiche per combattere il caro Bollette. Andiamo al messaggero, assalti e furti a Terni con le pistole a Perugia con blackout stradale. Parliamo di cronaca, che cosa è successo? Ieri ad Arrone, terrore in un supermarket con i ladri che sono entrati armati di pistole e bastoni ed è rimasto ferito proprio il titolare del supermarket. Arriba, e dunque siamo a Perugia, invece i ladri hanno addirittura staccato la pubblica illuminazione prima di entrare in un bar tabaccheria e portare via tutto. Anche il messaggero si occupa dell'avvertenza, potremmo dire così, familiare della famiglia di Blind con il rapper Perugino e poi Omicron 2, non trascurata neanche un raffreddore. Questo è l'appello, la raccomandazione che arriva dal mondo sanitario. E poi una storia di solidarietà, la raccolta fondi per Lucia. Lucia è una bambina di quasi 10 anni, i suoi organi però sono quelli di una bambina della sua età ma le sue ossa no, cioè crescono gli organi ma non le crescono le ossa, restano piccole, diventano una vera e propria gabbia e allora ha bisogno di un farmaco che costa 450 mila euro, scatta una gara di solidarietà per raccogliere fondi a favore di questa bambina. E poi a Terni, lo vedremo nelle pagine locali, causa il pronto soccorso, addirittura è dovuta intervenire la polizia. Andiamo nel dettaglio, le pagine regionali partendo dalla Nazione. Ubriaco guida a contromano lungo la E45, gli agenti della volante hanno bloccato la circolazione e intercettato un uomo. Era un 65enne in stato debrezza, ovviamente gli è stata ritirata la patente. Il tutto è avvenuto nello spazio tra Lidarno e Ponte Felcino. Capite che cosa poteva accadere. Ad Assisi, sempre per la cronaca, picchiato e derubato in treno, i carabinieri individuano uno dei rapinatori grazie ad un lavoro cesellino di indagine proprio sulla tratta ferroviaria. E poi la notizia che abbiamo letto in tutti i quotidiani, quindi magari la leggiamo qui e poi tralasciamo altrove, la mamma porta blind in tribunale, ci aiuti. Allora, questo ragazzo è un rapper perugino, salito agli onori della cronaca dopo aver partecipato, con successo, seppur non aveva vinto, ma insomma si era messo in evidenza, ad una delle edizioni di X Factor. Ebbene, la mamma ora chiede al figlio di versare gli alimenti a lei e al fratello, perché dice, ho fatto di tutto per dargli quello di cui aveva bisogno, adesso ha disponibilità economiche, dunque ci aiuti. E per riuscire ad avere questa aiuta addirittura si è rivolta al tribunale. E questo è un po' il fatto del giorno che viene raccontato. Un calcio al caro bollette, siamo sempre sulla Nazione. L'Umbria volta o svolta pagina, perché? Perché si attivano le comunità energetiche. La prima è nata a San Vito, 71 abitanti, che unisce cittadini ed artigiani. Cos'è una comunità energetica? È un insieme di persone o di realtà, enti, associazioni, che si mettono insieme per impiantare un pannello fotovoltaico, una mini paleolica, insomma una centrale che produce energia elettrica e poi usufruiscono di questa energia che viene prodotta. Un modo davvero per abbattere i costi dell'energia. Per una vera e solida ripartenza bisogna puntare sulle donne. Un incontro a più voci per un cambiamento più che mai necessario, lo ha ricordato Ada Girolamini del Comitato Pari Opportunità di Will Umbria. E poi Festival del Giornalismo in corso a Perugia a reagire all'effetto guerra. Ieri si è parlato di crisi energetica, rinnovabili ed embargo con i ministri Cingolani e Giovannini. Oggi sono attesi tra gli altri i premi Pulitzer e Zero Calcare e Saviano. Andiamo avanti, andiamo, questa è sempre la pagina del Festival del Giornalismo, andiamo a parlare di questo grido di aiuto che arriva da 90 nidi privati. Non possiamo sostituire i Novax. Da una settimana sono rientrate le maestre non vaccinate che però non possono stare con i bambini. E allora capite che negli asili è quasi inutile questo. La presidente di questi nidi privati dice per noi è impossibile sostituire questi operatori, questi educatori. Dunque chiedono su questo una vera e propria svolta. Ancora Pasqua agriturismi verso il pieno ma la pandemia pesa ancora, questo lo dicono gli operatori del settore. E poi andiamo al Corriere dell'Umbria, autobus a idrogeno, Umbria nella filiera. Siglato un memorandum di intesa per effettuare dei test tra il gruppo Sapio e la società Rampini Carlo. Test su autobus e sulla cella a cella combustibile alimentati a idrogeno e sistemi di rifornimento ottimizzati. È il cuore del memorandum di intesa che è stato appunto siglato per raggiungere l'obiettivo di dotare l'Umbria di autobus a minor impatto ambientale. Intanto le auto elettriche e ibride nella regione sono 13 mila e poi col diretti attacca l'Unione Europea. Con queste direttive rischiamo di restare senza carne. Parla il presidente Agabiti contro i pesanti oneri burocratici che l'Europa starebbe adottando per quasi tutti i settori dell'allevamento. Sapete che l'allevamento è ritenuto uno degli elementi inquinanti, quindi vengono poste delle limitazioni, ma ovviamente questo unito al rincaro dei costi energetici sta creando un vero e proprio effetto domino. Da Orvieto, da antidoto ad amaro, l'Orvietan da 420 anni fa digerire tutta l'Europa. Lo studio su questa produzione è un amaro orvietano, l'Orvietano che era famoso anche nel 1600, tanto che le cronache dicono veniva utilizzato addirittura dai sovrani francesi. Il famoso Re Sole, per esempio, adesso si sta cercando di riprodurlo in laboratorio. Ancora dal Corriere dell'Umbria, 22 educatori Novax negli asili nido privati. Le imprese lanciano l'allarme, ma l'abbiamo già letto. Mentre per il bollettino Covid, attualmente positivi sotto quota 16.000, tornano i test molecolari per gli ospedali. Gentili, e quindi parliamo sempre di sanità, apre il risico delle direzioni, gli scenari ipotezzati dopo le dimissioni del vertice dell'Asl. Sappiamo che infatti debbono essere rinominate le dirigenze delle aziende sanitarie. Il Festival del Giornalismo, zero calcare la sua coscienza al Festival del Giornalismo. Oltre 70 appuntamenti, grande attesa per l'incontro tra il fumattista e l'attore Valerio Mastrandrea. E poi il Pulitzer e Len Cooper, fra i giornalisti premiati per Raccontami l'Umbria. E sempre dalle pagine regionali, ma in questo caso andiamo al quotidiano messaggero, raccolta fondi per Lucia. I suoi organi interni crescono, ma le ossa no. È la storia che vi abbiamo accennato in apertura di Rassegna Stampa. Questa bambina di 10 anni non ce li ha ancora, si chiama Lucia. Ha gli organi che crescono, ma per una malattia non le cresce l'apparato scheletrico e quindi le ossa. Un farmaco può curarla, ma la terapia ha davvero dei costi importantissimi. Parliamo di 450 mila euro e allora il papà e la mamma hanno lanciato una raccolta fondi su GoFound.me per raggiungere la cifra necessaria ed acquistare il farmaco che possa permettere a questa bambina di poter vivere. E allora, anche noi solidarizziamo con questa storia davvero triste, cercheremo anche noi in qualche modo di dare una mano. Lo facciamo già questa mattina facendovi vedere dove poter partecipare alla raccolta fondi. Potete infatti segnarvi il link che vado a sottolineare, ovvero www.gofoundme.com che è una piattaforma per la raccolta fondi. Andate a cercare quello Un Futuro per Lucia. Un Futuro per Lucia, questo è il capitolo del GoFound.me specifico per questa bambina. E chi può, magari, può anche donare così che aiuta una bambina di 10 anni a poter tornare a sorridere. Omicron 2, non trascurate neanche un raffreddore. Questo dicono i sanitari perché l'emergenza è vero finita ma la pandemia resta. E poi la storia di Blind, ma ve l'abbiamo già raccontata. La strage di Bologna, il quinto uomo nascosto a Foligno. Parla l'avvocato Folignate Stefano Menicacci, ex deputato dell'MSI. Così ho conosciuto Bellini e l'ho affidato a un assistente di studio. Allora, questa è una lettura chiaramente molto interessante da poter leggere. Uno sguardo alle home page dei siti internet. Questa è Umbria24 che apre con la rapina. A mano armata al supermercato ferito un titolare accaduta da Rone e lo leggeremo nelle pagine di Cronaca Locale. Questa è Perugia Today che invece apre con la storia di Blind, ma abbiamo già letto di questo argomento. Tuttoggi.info, anche qui l'apertura dedicata al Ternano, alla vicenda di questa rapina al supermercato con il titolare che è rimasto ferito. Il tutto è avvenuto ieri sera. Allora, prima di andare avanti con le pagine di interesse locale, apriamo proprio questa fetta della nostra rassegna stampa dedicata ai singoli territori dall'Alto Tevere. Perché? Perché l'avvertenza tabacco si fa sentire. Ci sono migliaia di lavoratori in apprensione in Alto Tevere per almeno due motivi. Uno, perché è stato seminato meno tabacco rispetto al passato. Perché? Perché gli imprenditori dicono che non si riesce più a sostenere il costo di produzione. Seminare meno tabacco vuol dire in estate vedere meno lavoratori impegnati nella raccolta del tabacco. Due, perché la stessa trasformazione del tabacco e quindi un'attività che arriva dopo l'estate sappiamo essere stata trasferita dall'Alto Tevere nell'area di Bastia Umbra e molti altotiberini non potranno o non vorranno trasferirsi lì per andare a lavorare. Tutto questo ha portato, e anche molto di più, ma principalmente la questione del rapporto costo-prezzi, ha portato di nuovo i lavoratori a protestare. Vediamo. Un tavolo istituzionale permanente per il rilancio del settore della tabacchicoltura in Alto Valle del Tevere e quanto chiesto da Flai, CGL, FAI, CISL e Willa, Will, che questa mattina sono scesi con un presidio davanti al comune. Per chiedere appunto risposte sul comparto del tabacco. Ad oggi questo comparto non ha risposte, è in discussione anche la prossima campagna. Sappiamo tutte le difficoltà legate alla trasformazione per le scelte fatte dalle multinazionali in questi mesi. Quello che è in discussione oggi è tutta la filiera del tabacco e questo l'Alto Tevere non se lo può permettere. Noi siamo qui per chiedere risposte, noi siamo qui per reclamare e per ribadire che questo è un comparto che ha tutte le caratteristiche per continuare la sua decennale storia di produzione, di raccolta, di trasformazione del tabacco. Però vogliamo le risposte. Lavoratrici e lavoratori chiedono appunto risposte al mondo della politica, che ha fatto tante promesse, alle istituzioni e a tutto il sistema. Obiettivo è la difesa e il rilancio di un comparto strategico per il territorio. Siamo qui per rilanciare il mondo del tabacco, siamo qui per una scommessa sul territorio dell'Alto Tevere. Il problema attuale deve essere risolto nell'immediato ma avrà anche una chiave prospettica futura, ovvero quello di rilancio di questa filiera. Creare subito un tavolo e delle iniziative da portare avanti per gli anni futuri con contratti pluriennali, con degli impegni costanti che vadano a rafforzare quella che è storicamente nel territorio un elemento economico importantissimo. Il tabacco che ha anche la storia del territorio e per questo è importante la salvaguarda. Non possiamo permetterci come distretto dell'Alta Valle del Tevere di lasciar morire questo settore, questa filiera. Voglio ricordare che nel mese di dicembre è stata inaugurata a Città di Castello addirittura una piazza, piazza delle tabacchine perché c'è una tradizione antica e questo settore, questo comprensorio non può permettersi la morte di questo settore. Ne vogliamo il rilancio e lo sviluppo. Chiediamo l'attivazione di un tavolo permanente istituzionale nel quale tutte le parti in causa mettono in atto tutte le strategie possibili per il mantenimento del settore, ma siamo qui a chiedere anche l'incontro urgentissimo al Consiglio di amministrazione dell'azienda di trasformazione e delle cooperative che ne fanno parte, perché è vero che il sindacato deve fare la sua parte, è vero che la politica deve fare la sua parte, ma ci vogliono anche le aziende con dei piani industriali che possano dare un minimo di prospettiva e sulle quali si possano costruire i percorsi insieme. Un messaggio lanciato anche dai sindaci verso il governo. Ora serve una presa di posizione forte da parte del Ministero dell'Agricoltura. Ho deciso di essere qui a supporto della manifestazione organizzata dai sindacati delle maestranze della tabacchicoltura, perché è un momento di stallo che non è più giustificabile. Siamo arrivati ad aprile, la fase in cui dovrebbe iniziare il vero lavoro sui campi, sul settore della tabacchicoltura, e ancora nulla c'è di nuovo sul livello contrattualistico. Questo determina una fortissima incertezza e voglio ricordare che il livello economico che produce la tabacchicoltura nel nostro territorio è importantissimo. Per questo come sindaci dell'Alto Tevere ci siamo mossi fin dall'anno scorso per avere una parola di chiarezza. Ora aspettiamo dal Ministero, dal Sottosegretario all'Agricoltura, a Centinaio con Delegal Tabacco, una voce chiara di supporto rispetto a questo settore e a questo territorio. Le pagicne locali ripartono dal Corriere dell'Umbria. Siamo a Perugia, posizionati 4,5 km di binari tra Ponte San Giovanni e Sant'Anna. Mancano 500 metri per la Prodal Terminal. Annunciato una revisione degli orari con corse più frequenti. E poi il faccia a faccia con il Ministro dei Trasporti Giovannini sia la velocizzazione della Foligno-Perugia-Terontola. Ha confermato il Ministro l'impegno in un incontro con la Presidente Tesei. E poi l'abbiamo già letto nelle pagine regionali, quindi andiamo avanti. La storia di Blind e della sua famiglia. E poi dal lunedì raccolta rifiuti a domicilio nei quartieri di Montegrille d'Oliveto. Con il passaggio al nuovo sistema si stima una riduzione di 450 tonnellate di rifiuti. A Ponte San Giovanni intitolata una piazza ad Alvaro Chiabolotti. E poi a Castiglione del Lago lavori all'ospedale da terminare. E attenzione per il Centro Salute, appello alle istituzioni di Azzurro che ha fatto il bilancio degli ultimi due anni. Siamo a Magione dove si mobilitano, come abbiamo letto, i cittadini per aiutare questa bambina Lucia, di cui abbiamo già parlato. E poi siamo nel territorio di Assisi, grande preoccupazione alla Colussi, cassa integrazione per l'aumento dei costi. L'azienda spiega la necessità di attivare gli ammortizzatori sociali, ma conferma gli investimenti su Petrignano. Questo è uno degli effetti dell'impennata. Vi abbiamo parlato in apertura di rassegna stampa il costo delle farine, che capite bene, insomma, sono la base, la materia prima della Colussi che produce biscotteria. Ebbene, proprio l'impennarsi sia dei costi energetici, ma anche in questo caso delle farine, porta alla cassa integrazione per i lavoratori di Petrignano. Regione monitora la situazione delle aziende agroalimentari. La Lega presenta proprio un'interrogazione su questo argomento. E poi Bastia, il questore, chiude un locale per dieci giorni. Il provvedimento è stato deciso in seguito ad una violenta lite tra alcuni clienti. Ancora, bando della Fondazione Carisp per le sale di Palazzo Buonacquisti. E poi, mostra filatelica su San Francesco e Bergoglio, al Museo del Tesoro della Basilica, sino al 30 ottobre. C'è anche un francobollo emesso dal Regno d'Italia nel 1926. Siamo a Marsciano. Servono controllo di vicinato e videosorveglianza. Sono le richieste dei cittadini, insieme all'incremento delle forze dell'ordine, per contrastare l'impennata di furti. E poi la rassegna cinematografica sulla figura di Gesù nei film, da domani a lunedì di Pasqua, a Todi, nei portici comunali. Siamo in Alto Tevere. Lavori sul Puleto, la E45 non sarà chiusa. L'ANAS prevede il transito a doppio senso di marcia su una carreggiata durante l'intervento di risanamento. E poi ancora a Sansepolcro, sequestrato un impianto che si ritiene potesse sversare sul Tevere. I carabinieri ipotizzano una gestione illecita di rifiuti e uno smaltimento illecito su suolo e acque superficiali. Furti controllate 105 persone e 73 vetture a città di Castello. Provincia la cerca di edifici da edibire a scuole. I volontari, qui siamo ad Umbertide, orgoglio della città. Il sindaco Carizia ha accolto il gruppo di protezione civile. In scena Mozart e le lettere d'amore, spettacolo oggi ad Umbertide alle 21.15 e poi ancora il comune a città di Castello, rinnovate le rappresentanze sindacali. Il prefetto a Gubbio dà il via libera alla festa dei ceri il 15 maggio e poi si è tenuto il viaggio virtuale Coditrip a Gubbio sulle Orme di Federico da Montefeltro. Il Teatro della Fama è finalista tra le compagnie amatoriali. Gran premio nazionale che si svolgerà da oggi ad ottobre a Colleferro. Siamo a Gualdotadino. Il Rio Sacro lanciano il loro primo album nel nome l'omaggio all'Appennino Centrale. Il gruppo strumentale con Edoardo Comeodi e Norberto Becchetti si è formato nel gennaio 2020 e escono con questo primo album al quale ovviamente auguriamo i migliori successi. Sono stati ospiti anche da noi, lo ricorderete, in una delle trascorse puntate di Link. Siamo a Nocera Umbra. Il comune chiude piazza Umberto I per le festività e poi l'appuntamento è oggi e domani a Gualdotadino con il raduno dei gruppi Speleo Umbri. L'appuntamento clou domani mattina alla Roccaflea con un convegno. A Foligno Rally arriveranno 56 equipaggi e mille persone. L'amministrazione comunale lancia l'evento per portare turisti. Il sindaco di Foligno Zuccarini sarà l'inizio di una lunga tradizione. Con lui però anche il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, che è coinvolto proprio in questo rally città di Foligno che assegnerà il titolo Race Day 2021-2022 nella giornata di domani. Rapina in treno, denunciato uno dei responsabili. Nel dicembre del 2020 due uomini aggredirono un giovane, scapparono con 200 euro. Seminario a Foligno sulla salute mentale e gli effetti della pandemia tra i relatori, il sociologo Segatori. E poi ancora dal Folignate, meglio ancora proprio da Foligno, nella corte di Palazzo Trinci, un virtual tour nella cellula umana. L'installazione realizzata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali sarà visitabile da oggi al primo maggio. A Gualdo Cattano, allarme furti, controllate 46 vetture, verifiche della polizia anche su bar e attività commerciali, con 90 persone identificate. E poi galà di beneficenza, raccolti a Foligno, 5.737 euro per il Chianelli. Andiamo a Spoleto, ZTL, il comune cambia l'ordinanza, la giunta accoglie le richieste dei commercianti dopo le proteste. E poi Don Matteo vince ancora una volta negli ascolti, la seconda puntata totalizza il 26,4% di share. Interrotta la collaborazione con i pediatri a contratto, la denuncia arriva dall'Associazione San Matteo. E poi la cronaca frontale in galleria, anziana in prognosi riservata, lo scontro tra una panda e un pick-up nel tunnel della forca di Cerro. Si alza a Scheggino il Sipario sul Diamante Nero nel fine settimana e poi l'ex assessore, siamo a Campello sul Critunno, Grullini, espulsa dalla maggioranza. Scendiamo, andiamo a Terni, dove c'è stata, e le foto sono riferite a quello, la messa di Pasqua e quindi il precetto pasquale in acciaieria. Ha partecipato anche il Cavaliere Arvedi, vertice al Mise dopo Pasqua. E poi ruota panoramica, a Terni è il giorno dell'inaugurazione, l'appuntamento alle 11, 1000 euro di debiti per ogni ternano. L'assessore al bilancio fa il punto sul dissesto dell'ente comunale. La UIL, primo sindacato in comune e provincia, e poi area archeologica di Maratta, la sovrintendenza non si è presentata in commissione. Piediluco si prepara, non assente in commissione, quindi non c'era. Piediluco si prepara ad ospitare un mondiale, da ieri sulle acque del lago si sfidano 346 atleti di 21 paesi per il Daloia, ma i lavori al centro remiero non sono ancora finiti. E poi tre banditi armati, eccola qua la notizia che arriva da Arrone, è accaduto ieri sera, tre banditi armati rapinano un supermercato sull'ora di chiusura, è il Conad City di via Marconi. Siamo nel territorio di Narni, la raccolta differenziata da premio, ma la Taric non potrà diminuire, ad Amelia c'è erba alta nel centro della città, a Narni due progetti per avvicinare i bambini alla lettura e alla musica, ancora Narni, oggi assemblea organizzativa degli autotrasportatori a Sotir. Chiudiamo dal Corriere con Orvieto, il monito dell'arma, sempre più giovani usano droga ed alcol, il comandante dei carabinieri di Orvieto, Viviano, ne ha parlato in un incontro in comune, esperti a confronto al meeting europeo della salute unica, e poi in basso mostra interamente dedicata alla figura del capitano del popolo, taglio del nastro oggi, di un percorso storico, artistico, fotografico, allestito negli spazi del Museo Faina, visitabile fino a giugno. Andiamo alla Nazione, le sue pagine locali, qui siamo a Perugia, a strade, tante proteste, assessore ci ascolti, decine di richieste di cittadini per molte zone del Perugino, Sanzisto, Balanzano, Ponte Doddi, lungo la Settevalli Pila, la situazione stradale è complessa. Da tutto Perugia, Monte Grillo ed Oliveto, i cassonetti se ne vanno, da lunedì parte la raccolta differenziata in una nuova modalità, furto nella notte all'elementare di San Marco, rotti vetri rubati otto computer e poi a Tuoro, misericordia nel ricordo di Petri, cresce la squadra di volontari fondata dall'amico dell'agente ucciso, oggi cittadinanza onoraria a Ugo Bonelli. Sicurezza al Trasimeno, il questore Bellassai incontra i sindaci, a Magione arriva l'ambasciatrice del Montenegro, la festa della torta di Pasqua a Mantignana, tre giorni di stand per conoscerla. E poi siamo ad Assisi, cassa integrazione alla Colussi, la spiegazione del gruppo l'abbiamo già vista, siamo a Todi, Geo bonus, tre progetti per Todi, a Bastia la Lega va all'attacco, bonus e facciate, basta inerzia. È ufficiale a Gubbio, il 15 maggio si fa la festa dei Ceri, sembra un titolo banale ma non lo è, chiaramente dopo due anni di stop. A Gualdotadino questa mattina l'inaugurazione di un villaggio per crescere, a Nocera, a Caparvi, Piazza Umberto, chiusa al traffico per le prossime festività. A Città di Castello dobbiamo salvare il tabacco e il nostro lavoro, lo abbiamo visto nel nostro servizio, ad Umbertide, fieri di voi, il sindaco ringrazia la Prociv. A Sansepolcro, illecito smaltimento dei rifiuti, un'azienda viene sequestrata, ad Umbertide, uniti per Umbertide, noi siamo liberi, autonomi e competenti, nasce una nuova forza politica, guardando al voto del 2023. Siamo a Foligno, polizia e studenti in campo contro il cyberbullismo, all'Istituto Scarpellini un incontro per prevenire le insidie della rete, hanno partecipato 700 ragazzi in presenza e in streaming. A Palazzo Trinci, verso la Festa della Scienza, installata questa maxicellula, un viaggio virtuale nella cellula che potete fare a Palazzo Trinci. A Spoleto, Posterna, tutti in attesa del comune, i condomini vivono nella completa incertezza, e al costruttore hanno persino pignorato casa. Ancora a Spoleto, il terribile incidente nella galleria. Vuscom e Osservatorio Mattei, siamo a Foligno, confronto sulle comunità energetiche. A Norcia, l'elicottero dei Calabinieri, sorvola la Varnerina, ma è un controllo del territorio. A Campello, la Grullini viene espulsa dalla maggioranza. Ancora Terni, la messa all'ast con il Cavaliere Arvedi, e poi, caro Bollette, le ricette del Movimento 5 Stelle, transizione energetica ed ecologica, queste le parole chiave. A Orvieto, diffondete semi di pace e giustizia all'appello del Cardinale ai finanzieri. Gli sbandieratori, un docufilm per celebrare quelli di Orvieto. A Terni, la Will esulta un trionfo nelle rappresentanze sindacali degli enti locali. Spazio anche alle pagine della cultura, il Santo e il Papa, nel nome di Francesco. Ad Assisi, fino al 30 ottobre, una mostra filatelica, con 2000 opere, incentrata sul poverello, e su Bergoglio vengono emessi anche Franco Bolli speciali. Il premio giornalistico internazionale Raccontami Lumbria, tutti i vincitori, i verdetti 2022 di questo premio internazionale, con la presenza anche di grandi firme, il premio Pulitzer, Ellen Cooper. Questo per le pagine della Nazione, stiamo per andare alle pagine del Messaggero, ma prima di sfogliarle, il prossimo servizio. Abbiamo visto soprattutto nelle pagine nazionali di questa rassegna stampa come le vicende ucraine siano chiaramente in primo piano, come tanti stiano fuggendo da quella terra e purtroppo c'è anche chi è morto proprio mentre fuggiva. Noi per oggi vi raccontiamo invece la storia di chi ce l'ha fatta, è un monito di speranza, è la storia di Anna, una signora ucraina che è partita, fuggita da casa sua, incinta di nove mesi, con per mano un bambino di tre anni, ha lasciato il marito lì in Ucraina e quindi è partita da sola, davvero alla ricerca di vita, sì, per i suoi due figli e la vita l'ha data. Ha partorito all'ospedale comprensoriale di Gubbio Gualdo Tadino, noi abbiamo voluto raccontare la sua storia. Sentiamo. È spuntato un nuovo fiocco a Gubbio, speciale come tutti quelli che simboleggiano l'arrivo di una nascita, ma forse un po' più degli altri, sì perché quel fiocco azzurro non racconta solo di un nuovo nato, ma racconta una storia di speranza e di vita vera. La storia di Anna, giovane madre e moglie, arrivata da Leopoli a Gubbio quattro settimane fa, scappata dalla propria terra, dalla propria famiglia, per respirare un'aria di pace e serenità che a casa non trovava più. È una delle prime profughe giunte nella città di Pietra e prima ancora a Cantiano dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Anna, dopo giorni di viaggio durissimi e dolorosi, incinta di otto mesi con un figlio di tre anni al seguito, è riuscita a partire, a passare la frontiera ucraina, attraversando il confine con la Slovacchia per venire in Italia insieme alla suocera Oksana, che oggi la ospita nella casa dove da venti anni vive con il suo compagno. In Ucraina Anna ha lasciato Nasari, suo marito, medico dentista come lei, che oggi presta soccorso ai feriti e insegna ad altri come agire tempestivamente nei casi più urgenti, lontano dalla sua famiglia. Non ha potuto assistere alla nascita di suo figlio, Olexa, venuto alla luce all'ospedale di Branca lo scorso 24 marzo. Un parto podalico gestito alla perfezione dall'equipe del reparto di ostetricia e ginecologia. Anna ha raccontato al personale sanitario di aver vissuto l'esperienza ospedaliera con tranquillità, anche se lontana dal suo compagno, con il cuore colmo di tristezze e preoccupazione per il terribile periodo che sta attraversando la sua nazione e parte dei suoi familiari rimassi in Ucraina. Ad agevolare la sua permanenza nel reparto è stata Elisa, operatrice socio-sanitaria di nazionalità birolussa che le è stata di supporto traducendo tutto. Ho sentito, ha detto Anna, la vicinanza, l'affetto ed il sostegno degli operatori sanitari in un evento così importante ed unico nella vita di ogni donna. Oggi la giovane mamma a casa circondata d'affetto stringe tra le braccia il suo bambino, consapevole di quanto quella piccola vita di neanche tre chili sia la cosa più preziosa al mondo. Una storia da loro che insegna quanto, malgrado il dolore, i sacrifici e le tragedie, ci sia sempre qualcosa per cui vale la pena vivere e che alla fine la vita è sempre più forte di tutto. E allora tanti auguri ad Anna e ai suoi bambini, tanti auguri a tutte le mamme ucraine. Rifiuti la sfida delle eco-isole. Siamo al messaggero, obiettivo la tariffa puntuale e cambiare la raccolta a Ponte San Giovanni da lunedì a Dio e Cassonetti in strada a Montegrille al quartiere Oliveto. Pubblico impiego, Will in comune, Studium e CGL. Il cavur Marconi Pascal ricorda Manuel Vittoria a un anno dalla morte, al congresso Ciriaf, il felli assegnato a Giada Mondanelli. Bambini, sposi e golosi, un weekend tutto da vivere. Nel messaggero trovate proprio gli appuntamenti di questo weekend. E poi botte vicino al bar, chiuso il locale. Siamo a Bastia Umbra. Pugno duro del questore dopo l'episodio di dieci giorni fa sono scattati sigilli per il bistro. Nello scontro coinvolti alcuni avventori dell'attività in Via Roma. È stato decisivo l'intervento della polizia. Gubbio, c'è il via libera ufficiale alla festa dei ceri. Gualdo Tadino sul piano parcheggi, lite senza fine. Città di Castello, presidio dei lavoratori del tabacco. A Todilo, Jacopone è ancora olimpico. Foligno, festa di scienza e filosofia. L'installazione a Palazzo Trinci di questa cupola che vi farà vivere la sensazione e l'emozione di entrare in una cellula. Cyberbullismo, la polizia incontra gli studenti dell'Istituto Scarpellini e poi ricevuti a Foligno in comune gli studenti dell'Erasmus. Siamo a Cannara, rapinarono e picchiarono un uomo in treno, scatta la prima denuncia. E poi Spoleto, ospedale, via i pediatri a gettone, polemiche per la decisione improvvisa dell'Asle di interrompere i contratti libero professionali, il disappunto dell'Associazione San Matteo, impossibile ripristinare l'area materno-infantile. Il frontale in galleria e poi con il FAI visita straordinaria al Duomo di Spoleto. Ancora, ho scritto al sindaco inutilmente, emergenza ucraina, il racconto che il messaggero vi offre. È chiaramente un racconto di uno dei suoi lettori. Inferno, pronto soccorso, siamo a Terni, chiamano la polizia. Giovedì notte, dopo più di 12 ore di attesa, i pazienti in attesa appunto, hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Due anziani sono stati lasciati soli per ore, accuditi dalle persone lì in sala d'attesa. bambini e pazienti con sintomi Covid tenuti insieme. È esplosa la protesta, alla fine sono dovuti intervenire anche gli agenti delle forze dell'ordine. E poi, Movimento 5 Stelle e Rifondazione, prove d'intesa, spunta il nome di Giuseppe Mascio, il nodo del ruolo della sinistra rispetto al campo largo del PD, un nuovo laboratorio in vista delle elezioni su energie ed ambiente. E poi, Arrone, la rapina al market con pistole e bastoni, il titolare che è stato colpito alla testa, tre uomini a volto coperto, probabilmente giovani hanno portato via l'incasso del Conad e sono scappati ed è stato colpito proprio il titolare del supermarket che è dovuto ricorrere all'ausilio dell'ospedale. Orvieto, allerta per il post-pandemia, i più giovani rischiano risolamente, poi Asta dopo Pasqua al mese per il piano di rilancio. Questo per le pagine di cronaca ed attualità. Allora, stiamo per aprire quelle di sport, lo facciamo però con l'ultimo dei servizi che vi proponiamo quest'oggi che è l'intervista da Gubbio a Mister Torrente. 50 punti in classifica, sesto posto a tre giornate dalla fine dopo la bellissima partita giocata al Conero, Vincenzo Torrente però domani arriva la Pistoiese che ha appena battuto il Modena capolista, che ha l'acqua alla gola e ha assolutamente bisogno di punti e si prospetta una partita completamente diversa da quella di Ancona ma altrettanto difficile. Sì, come hai detto sarà una partita difficile, una squadra che è in saluto, una squadra molto dinamica, una squadra che ha delle individualità importanti però noi vogliamo, abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare a Sesti, vogliamo mantenere questa posizione e quindi mi aspetto un'altra grande prestazione da parte dei ragazzi soprattutto a livello caratteriale e nervoso. Speriamo, e l'auspicia è quello di far più punti possibili da qui alla fine e che ancora il meglio debba venire però Mister Torrente non so se d'accordo ma la sensazione è che arrivare a quota 50 punti e avere davanti solo le corazzate del girone probabilmente già qualcosa di straordinario per come era partita questa squadra inizio campionato. Ma sono d'accordo anche perché questa è una squadra rinnovata con 16 elementi altri 3 a gennaio quindi 19 non era scontato assolutamente è una squadra molto giovane con esperti bravi e il nostro percorso fino ad adesso come hai detto tu è straordinario per me anche perché davanti ci abbiamo corazzate che alla vigia del campionato erano le favorite e quindi siamo contenti ma dobbiamo continuare prendendo in queste tre gare grande concentrazione e attenzione e mantenere questa posizione quindi voglio ottenere il massimo da queste tre gare per chiudere a parte Aurelio sono tutti disponibili per una volta insomma anche un po' l'imbarazzo della scelta qualche giocatore era reduce da qualche problemino Arena Bulevardi fu tutti come stanno ma Bulevardi bene Arena ha lavorato a parte ma anche lui ha recuperato Tazer si è allenato ieri e oggi però voglio portarli tutti in gruppo tenerli tutti tutti con me Cittadino anche sta recuperando la condizione ma sta bene ha bisogno soltanto di giocare e lo stesso Migliorini sta meglio quindi stiamo cercando di recuperare tutta la rosa per chiudere bene queste tre partite fare fare il massimo e prepararci e trovare una condizione migliore per tutti Ovviamente l'intervista era stata realizzata ieri sul filo degli allenamenti quindi quel domani e oggi ve lo facciamo vedere dall'infografica il Gubbio scende in campo oggi alle 17.30 allo stadio Pietro Barbetti Gubbio Pistoiese questo è il Corriere dell'Umbria Gubbio ora non fermarti Torrente abbiamo faticato per prenderci il sesto posto vogliamo mantenerlo poi metti in guardia Guai a ripetere gli errori commessi contro la Viterbese intanto Siena contro l'Alcona ultima chiamata derby Emiliano per la capolista Modena se questo è il Gubbio andiamo a vedere che cosa succede in serie B Grifo D'Urso out dell'Orco c'è domani contro il Pisa sulla tre quarti torna Santori in difesa Rosi ormai pronto a centrocampo verso il Forfè anche Juan pronto segre Alvini e dubbi sulle fasce intanto i tifosi torna a Forza Perugia la curva nord del tuo cuore lo storico striscione da ieri ricopre tutto il perimetro del parcheggio e poi il torneo conta la rovescia per l'Academy Cup si gioca in nove campi con 54 squadre giovanili alle 15 scocca l'ora della primavera di Formisano under 16 15 e 14 giocano tutte di lunedì ancora in serie B la Ternana come Rocky Lucarelli in vista di Crotone dobbiamo vivere ogni gara come nel film di Balboa il tecnico rosso verde dopo il cappò con il Lecce dice pronti a reggere a ogni pugno avversario rinviata la gara della femminile in serie C la primavera stamattina gioca con il Cesena e poi andiamo a parlare di volley KO a Trento chiaramente parliamo di Sir Sirci furioso il presidente in fumo è il nostro grande obiettivo più di metterci tanti soldi proprio non posso fare la Sir è fuori dalla Champions servizio out Leon in giornata no 39% in attacco e nove muri subiti la delusione di Girbic in stagione perse solo cinque gare e tutto il tie break ora reagiamo ancora abbiamo già letto del Gubbio dunque nel mondo dei dilettanti eccellenza oggi in Arnese Ducato Spoleto in promozione Spazio Big Match FC Tavernelle e Romeo Menti Campitello in primavera Cesena Rosso Blu sconfitti in finale 3 a 1 e poi in serie D Foligno Riecco Marmorini la permanenza di Cirone è durata solo tre giorni ancora un cambio in panchina torna il tecnico che subentrò a Monaco già dalla nona alla sedicesima giornata in serie D Novità Altiferno torna Falcinelli è responsabile dell'area tecnica e poi motociclismo Andrea Conti al lavoro per un sogno il Touristrophy dell'Isola di Mann e ancora motocross via al campionato umbro toscano record di iscritti a gioiella sono 250 la Nazione sul Grifo Grifo Pisa difese blindate tocca i bomber con 28 reti subite quella bianco-rossa la migliore i Toscani a quota 29 Alvini deve rinunciare a Durso in forte dubbio Angella Equan serie D Foligno torna Mr. Marmorini Cirone ha rinunciato all'incarico eccellenza c'è l'anticipo oggi Narnese Ducato serie B Perugia i rivali toscani scatenati nei primi 10 minuti intanto oggi il Frosinone riceve la capolista Gubbio arriva la Pistoiese prendiamoci tre punti oggi alle 17.30 al Barbetti torrente avverte non dobbiamo concederci cali di tensione e la Ternana incerottata pura Crotone di sicuro in porta gioca Capricas chiudiamo con il messaggero Grifo Pisa sfida tra bunker domani alcuni si affrontano prima e terza difesa della B Chichizzola Nicolas duello sudamericano dei clean sheet e poi Foligno Caus torna Marmorini motocross in 250 se sfida una gioiella ancora calcio la Pistoiese Gubbio la Pistoiese per blindare i playoff a Foligno per i motori domenica tutto gas con il rally e poi da Terni mister Luca Relli avverte saranno vacanze eternane secondo gli allenatori i playoff sono ancora possibili slittano le ferie da Loia e parliamo di canottaggio il CLT protagonista con Pallozzi e poi spazio oggi anche con le foto al Subuteo siamo sempre da Terni il tocco dei pionieri ternani dal garage di via Tintoretto negli anni settanta alle sfide nel centro federale la favola dei fratelli Matti Angeli chiudiamo con il rugby under 13 siamo sempre a Terni la sfida di Parma ostacolo Roma per la senior era l'ultimo titolo per lo sport che chiude la prima parte di questo TG Mattino restate con noi perché poi avremo il caffè con il meteo di Parma